Votare me vuol dire votare i baresi, vuol dire votare una donna di esperienza politica e amministrativa che però non ha mai tradito la sua città perché ama la sua città sin dalle prime luci dell'alba. Quindi è giusto votare una donna indipendente, cosa che tutti gli altri non sono perché hanno tutti legacci e legacciuoli e quindi è giusto votare finalmente una persona di esperienza indipendente e che ama la sua città. Il primo compito è riportare l'ordine, riportare l'igiene, riportare la vivibilità, i servizi essenziali basta riprendere questi e già cambierebbe il volto di questa città. Poi ovviamente bisogna lavorare su una bari turistica e anche su una bari prettamente commerciale.